Dalle 14 di oggi è consentito anche ai passeggeri privi di Green Pass diretti verso la penisola di attraversare lo stretto di Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza, la stessa facoltà riconosciuta agli abitanti delle isole minori siciliane. L'ordinanza è stata firmata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, decorsi inutilmente le 24 ore dall'ultimo appello al ministro della salute Roberto Speranza. Il provvedimento è adottato al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello stretto di Messina, nonché per i collegamenti da e per le isole minori siciliane. Nell'ordinanza del governatore si legge inoltre che i soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi dello stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto di vieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti alle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo una mascherina FFP2. Poniamo fine così, dichiariamo Sumeci, a un'assurda ingiustizia e danni soprattutto dei passeggeri siciliani. Una norma discriminatoria del governo centrale, al quale abbiamo fatto appello già da due settimane, affinché si rimediasse. Voglio sperare che anche il collega occhiuto della Calabria, al quale ho preannunciato della mia iniziativa, intenda adottare lo stesso provvedimento. Roma deve smetterla di apparire arrogante o distratta verso i diritti dei siciliani.